La punizione per la Triestina a questo punto diventano veramente tutte palle buone, anche queste punizioni dalla tre quarti potenziali occasioni per cercare di scodellare il pallone in area di rigore alla ricerca di un rimpallo, di un tocco decisivo. La ricorsa di Allegretti con molto movimento in area di rigore parte la parabola di Allegretti, va a staccare di testa e il gol da Triestina con Devena, il gol 1-0 in stagio con l'attaccante Napoletano di testa, bellissimo, lo stacco aereo di Devena, a 4 minuti dal termine la Triestina e in vantaggio di 1-0 Devena. Are we human or are we dancer? Are we human or are we dancer?